eccoci ciao stefania siamo qua per salvatore ciao come sempre conto da 51 e ti connetti a salvatore 5 4 32 non avete salvatore e in una bottega è un uomo è un uomo ed è una un'altra vita una vita parallela e vedo che ha una barba scuro a una barba un po lunga un po punta e da un punto un laboratorio dove fa fare dei lavori come fosse un artigiano mi fa segno di entrare mi fa vedere cosa c'è all'interno quindi sono all'ingresso ed è una bottega come con tante cose di legno ecco come come proprio tipo di arredamento ecco vedo che ci sono credo che si chiamino così tipo delle cartografie quindi dei delle mappe come delle mappe di disegno e lui che le traccia ma è un cartografo sì sì che hanno ma io la vedo come 1600 niente dire 1500 1600 comunque sembra un'epoca l'epoca tipo di leonardo da vinci insomma quell'epoca lì non sbaglio potrebbe essere quell'epoca lì vedo che ci sono per strada nelle strade con dei ciottoli quindi un po dissestate e ci sono tante botteghe quindi tanti artigiani e quindi di chi fa il calzolaio di chi fa proprio cose cose semplici c'è il fabbro e lui fa il cartografo si occupa di quello ma non fa solo quello perché vedo anche delle tipo delle ampolle delle burnie delle come se anche mischiasse gli elementi quindi fa fa due o tre cose all'interno ha un angolo in cui da tutte le mappe delle pergamene arrotolate e da un altro lato a dei a dei ripiani in cui tiene di vasetti come delle burnie con che scopo mi chiedevo se fossero delle cose che poi vendeva da bere sono dei prodotti invece sembra che siano dei colori cioè vedo che dei vasetti sono colorati all'interno come dei liquidi e gli servono per fare le cartine per far sì sì ma vedo anche dei colori quindi viola vedo un giallo però si e se gli servono sempre per quella parte lì per quella parte in effetti delle cartine ti dà l'autorizzazione sì va bene come lo vedi in generale ha delle interferenze 1 allora io lo vedo intanto a colpa d'occhio lo vedo con dei fili collegati e questi fili si collegano come dei ricordi a delle vite passate o vite parallele come se tenesse avesse cinque o sei fili che queste non sono interferenze in questo caso ma solo come dei fili che lo collegano per magari una o due cose che sono dei ricordi delle caratteristiche che adesso ma che sono collegate a delle esperienze passate o parallele comunque e invece a livello di interferenze vedo che ha una cappa sopra la testa come appunto un caschetto un caschetto di uno può essere spesso due centimetri ed è come una nuvoletta una nuvola quindi di materiale aereo gassoso insomma ma questa e fa sì che lui rimanga un po limitato rimanga circondato diciamo da questa nuvoletta rimanga non vada non si estenda troppo all'esterno cioè è per far sì che un po per bloccarlo nel fare esperienze esterne a sé lui è portato per fare delle cose e ci viene magari portato dalla ps a fare delle esperienze però questa cosa è una cosa come può per frenarlo un caschetto l'impianto dire di sì direi che un impianto si è al di sopra esterna la sua testa ma è nell'area in effetti del pensiero quindi sopra sopra testa e poi vedo che ha qualcosa a livello di dove c'è la direi la guancia sinistra lo zigomo la la mascella comunque una parte la parte alta li vedo che ha un disturbo questa parte le crea come un impianto è un impianto che gli crea un disturbo forse nell'arco dei denti o li va a toccare anche un po l'orecchio sinistro e poi vedo una parte un impianto sulla spalla sull'osso ecco quello del dove c'era il movimento e l'articolazione della spalla sinistra e vedo prima mentre parlava ho visto che c'erano delle interferenze eteriche tale vent'era l'entità vediamole sì perché non riesco a riacganciarle allora c'è proprio un spario e le fai entrare tutte stanno arrivando 23 che sono alti come dei nanetti da giardino insomma non sono piccoli e camminano sembra un po come 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 vengono rappresentati dei sette nani ecco con un cappello così colorato e poi sono a questi ne avevo già visti come categoria che sono quelli che si legano i bambini che si sentono soli cioè bambini che sentono un stato di solitudine di frustrazione come degli gnomi proprio e però sono ancora lì cioè non sono spariti spesso spariscono con l'età e vanno e si attaccano ad altri bambini sono la funzione di non farsi che bambino la tira quando sente solo praticamente spesso se ne vanno verso i 7 8 10 12 anni insomma invece sono ancora lì con sono stati di con lui per tutto questo tempo e poi vedo un essere che si sembra al viso da anfibio però il corpo che sembra sia un po un rettile però il viso un po squamoso viso un po con questa cosa un po a punta sopra la testa poi e poi spesso interferito da delle entità cioè dell'entità del disincarnati ma io lo vedo due che sono dei parenti sono legati alla famiglia sono legate alla famiglia potrebbero essere dei nonni o potrebbero anche essere dei parenti della fidanzata però sono legati al suo circondario familiare diciamo quanti sono e io ne vedo due però ne avuti anche tre a volte non tutti insieme ma sono tre personaggi diversi tre persone diverse chiama lì chiama in tutto vedo un uomo la donna in pari età potevano essere sposati e poi vedo uno che rimane in penombra rimane un po indietro non si fa tanto vedere però potrebbe avere un po più della sua età cinque anni in più più o meno un amico mancato è uno zio o un cugino però il suo parente dove si trovano adesso e loro sono sulla terra adesso ce li ho davanti ma comunque si sono non si sono spostati riteniamo il titolo chiesto l'autorizzazione di salvatore sento chiesto va bene ignomi anti anfibio rettile i disincarnati ci sono dl ci sono capi dell'entità eteriche ma edl non ne vedo no vede loro vede loro capo di all'entità eteriche chi è è arrivato è arrivato un'entità con un bastone un grande bastone guarda sembra come come sta apparendo tipo mosè seus sì 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 in effetti sì sì perché questo bastone questa barba e si chiedi se non sei stancato di questo cinema il bastone da barbacchia noi cos'è il saggio noi cosa dovremmo fare inginocchiarci a dire perdono darci le tavole della legge non so lui dice che vuole poter lavorare senza essere disturbato lavorare nell'ombra cioè nel senso che non si aspettava neanche di essere chiamato ciccio amore lui entità mentali vediamo se ci sono allora vedo vedo che gira come una sopra sopra di lui come una luce che un porpora un color porpora e che sta che sta ruotando ma allora vedo che c'è un'entità mentale si aspetta che si sta formando perché c'è questa nuvola che un po come se se impedissi di vedere i semi di stress insomma allora l'entità mentale che vedo ce n'è una che è legata la corona che legata le relazioni affettive che gli impedisce di avere una famiglia sua ma non è legata al lavoro o la situazione economica è legata alla parte affettiva c'è convivenza un matrimonio c'è una famiglia sua di non poter creare una famiglia sua di che livello scusami ma questa varia dal 4 al 5 e c'era lì c'era lì ma c'era lì da vedo che c'è la lì l'adolescenza anche verso i 15 17 anni è legata a una convinzione del fatto che per lui è meglio rimanere a casa c'è meglio stare a casa cioè che sulla sua zona comfort sicura e la casa e la casa con i suoi con la famiglia di origine e quindi sulla base di questa convinzione lui anche a un freno rispetto all'indipendenza non è che mancando l'indipendenza non crea una famiglia e proprio viceversa è il fatto di avere questa convinzione di credere di non di non potere avere una zona di confronto la zona sicura anche al di fuori della diciamo situazione familiare si non non rompe diciamo questa catena della dipendenza anche economica diciamo così della non indipendenza economica e non fa quel star quel salto una famiglia sua nasce da questa entità però ci sono altre entità mentali c'è una che ci vedo bambini qua ci vedo dei bambini come fosse legato a un'idea rispetto ai bambini rispetto al forse alla paternità direi alla paternità sono uniti a questa parte questa entità mentali c'è hanno diciamo tutte e due la stessa funzione di non essere un individuo separato e indipendente livello perché da un altro si muove anche sul 6 questa tra il 5 e il 6 però è molto questa qua è molto radicata molto radicata è proprio rispetto alla paternità se bambini paternità poi bastanti età mentali non ce ne sono più ok chiamiamo nel cinema tutti quelli che vuole chiamare in primis la fidanzata i genitori e tutti quelli del paese la fidanzata risposto subito i genitori arrivano e sono a braccetto nella mamma e papà la mamma cammina un po lentamente un po anche un pochino curva con la schiena lentamente un po dubbiosa non sa bene cosa perché perché la stiamo chiamando cosa deve andare a fare è un po dubbiosa è un po la vede un po raccolta nelle spalle diciamo così un po curva ci sono loro ci sono sono loro tre come pt la sensata come scusa mi ti intero come vedi la fidanzata scusa allora dicevo che li vedo un po separato intanto cioè nel senso che i genitori sono da parte lei dall'altra perché lei non vuole tanto avvicinarsi cioè preferisce stata un po più lontana e poi la vedo molto curiosa e anche reattiva cioè appena l'ho chiamata ha subito risposto si si aspettava di essere chiamata probabilmente era comunque era lì che la vedo che una persona è una persona intelligente una persona vivace mentalmente ma vedo anche un buon livello energetico devo dire sicuramente pronta ad ascoltare quello a vedere ascoltare a partecipare guarda nella se te lo permette ovviamente la parte subliminale è delle analogie delle differenze con quella di salvatore allora la parte subliminale la differenza che vedo è che ha una ps più ma la vibrazione un po più alta e poi vedo che si avversa più alta è una una frequenza più alta un colore anche diverso sull'arancione lei invece lui a questo colore appunto che è un po più sul porpora è un po più leggera anche lei a livello ecco a più chiaro che cosa vuole fare la sua ps è più terminata determina un po più di lui come determinazione ma anche più come chiarezza di obiettivi questa cosa vuole fare e questa andando avanti per quella cosa lì fiamma anima fine è un'anima gemella se non è massima ok hanno vissuto altre vite insieme si vedo che le due psc si danno la mano cioè nel senso che si stanno dando la mano lei si è avvicinata sono altre vite insieme vissuto non vede una vita sempre lui uomo le donne mi vede più grandi e li vedo su un'isola che credo sia in gran bretagna potrebbe anche se in irlanda in irlanda in scozia comunque avete delle anche delle delle scogliere hanno vissuto lì hanno vissuto insieme lì è stato sempre nel 1900 circa 19 fine 1800 1900 1900 all'inizio vedo che erano insieme stavano bene erano molto uniti molto uniti hanno passato la loro vita insieme almeno direi dai 20 20 a 20 anni in poi fino agli 80 circa va bene ha degli impianti salvatore si salvatore a questo impianto sulla testa mentale immaginano mentale se questo mentale mentre gli altri sono eterici quelle sulla spalla sinistra se causa esoterica dell'infezione delle urinarie che lo riguarda ormai da più di dieci anni ovviamente nessun tipo di trattamento medico ha trovato la soluzione allora questo lo vedo legato a un live delegato ad action questa parte è una parte che hanno su quella del basso ventre dell'uretra della della vescica su cui hanno lavorato vedo che hanno fatto c'è come una come una cannula una cannuccia proprio collegata all'uretra e come se avessero fatto entrare dei liquidi e uscire dei liquidi questa parte della sperimentazione è legata hanno anche fatto prelievo di sperma in effetti ma avanti dall'età dell'adolescenza c'è lo stesso che in iniziata eccono verso i 18 20 anni più o meno questa parte la prima volta che è stato preso quella volta che intorno ai 7 8 9 anni ha sentito che qualcuno ieri imbocava le coperte è rimasto calmo pensava fosse la mamma poi insomma ha capito che non era lei ha urlato in effetti non poteva non era stata lei insomma che è successo sto vedendo sto vedendo che è nel letto e ci vedo dei grigi vicino vedo dei grigi dei quindi un abduction è una d'action vedo che lo vogliono prelevare però non lo sta non riescono farlo non riescono farlo perché lui fa forza quella che l'addormentamento perché è come se prima dell'addaction ci fosse un primo contatto che è eterico dove dove c'è come viene messa una come una vibrazione che fa sì che che ci siano addormentamento profondo e come andare a sostituire dei sogni a quello che sta succedendo quindi come si andrà proprio a sovrapporre l'immagine che loro vogliano che tu abbia con quello che invece sta succedendo per cui se c'è un tocco o se c'è un suono di un certo tipo uno pensa mettono pensiero tipo della cascata anziché quindi c'è proprio una visione come da sogno e quindi c'è un addormentamento maggiore e poi c'è il prelievo allo stesso modo c'è la sostituzione del ricordo quando poi ti lasciano e ricevete due grigi che loro vogliono prendere ma altri ripeto con queste braccia un po come li vedo mollicce un po le dita un po lunghe alti quando sono state l'addaction in totale o al mese allora nel periodo dell'adolescenza sono state anche tre alla settimana quindi una decina più o meno al mese hanno lavorato anche sulla colonna datebrale lo vedo adesso quindi scogliosi scogliosi hanno cercato di sostituire di rimettere appunto una parte eterica un impianto eterico che in effetti lui ha avuto per parecchi anni per più o meno dai dai 16 dai 16 alla trentina avuto un impianto eterico sulla schiena che infatti lui potrebbe ricordarsi che ogni tanto aveva delle come delle piccole scosse sette o vibrazioni sulla schiena ecco era messo così come fosse una lisca di pesce quindi la colonna vertebrale era la parte principale e poi c'erano come delle diciamo le spine quelle del pesce e gli davano ogni tanto come delle vibrazioni delle piccole scosse sulla schiena nella parte alta centrale altra alta media e poi è stato tolto perché quella praticamente raccoglieva dei dati dei dati fisici quindi di come reagiva a quello che facevano durante l'add action come reagiva nella giornata poi è stata tolta ed è stato tolto sì ma qual è il fine ultimo cioè come come si chiama il progetto di salvatore si vedo che c'è un nome che può essere greco di un personaggio può essere tipo tipo eraclito eraclito perché è perché lui a questa parte nella memoria legata appunto queste vite precede queste vite parallele precedenti e come prenderli per cercare di prelevarli queste informazioni legate anche delle mappature a delle mappature è proprio come estrapolare dei dati vedere come funziona lui adesso in collegamento queste vite passate è come se attraverso questi fili che lui ha perché ce li ha in natura cioè ce n'è proprio di suo è come se loro cercassero di andare a risucchiare attraverso questo filo anche delle delle parti legate alle vite parallele 9 sogna di non riuscire a fare le cose perché colto dal sonno e questi sono addormentamenti dead action addormentamento all'interno del sogno diciamo che lui a a nel quelli che nella vita lui non ricorda come obiettivi nel senso che c'è questa cappa sulla testa questo impianto sulla testa sul cranio che praticamente lo vincola a fare quello che sta facendo è solo quello che sta facendo questa parte qua compare invece nessuno quando lui sogna e il vengono in mente di cose da fare di progetti di possibilità che invece durante il giorno a cui non ha accesso durante il giorno per cui come se la sua ps o la sua coscienza gli mandasse dei dei messaggi dei segnali viene di nuovo riportato una condizione di sonno all'interno del sogno è come se ci fosse una cosa che fa sì che lui ridimentichi quello che invece desidera fare quelli che sono i suoi potenziali obiettivi quindi c'è proprio un'azione costante su questa parte sulla parte della volontà sulla parte della volontà si causa della sua timidezza la causa della sua timidezza e allora direi che è legata a quella a quella impianto eterico che ha l'impianto mentale no scusami quella parte di livello 4 5 che ha legato a stare da un lido scusami mentale mentale 45 sì sì che è legato a quella sta nell'idea stare in un posto sicuro però mi è arrivata anche l'immagine di lui non non lui come adesso ma un'altra vita una vita parallela in cui è muto lo vedevo bendato in realtà però era simbolico era muto cioè non poteva parlare con gli altri ed era ancora in un'epoca in cui non vedo che ci fossero dei linguaggi alternativi quindi con le mani queste indice vedo che chi era muto era muto chi era muto faceva delle espressioni col viso ma non c'era ancora questa questo linguaggio che si potesse usare con gli altri per cui era quasi totalmente isolato cioè era al sicuro si trovava al sicuro nella famiglia e anche questo ce l'ha come ricordo c'è una parte anche dell'attivazione di della parte mentale arriva anche da questa esperienza che ha fatto era sicuro in famiglia però al di fuori della famiglia lui si sentiva in pericolo in pericolo per cui non poteva comunicare con gli altri e provava provava a esprimersi provava ma non non riusciva quindi era all'interno di smolto all'interno di se stesso ed è rimasta questa traccia in lui della comunicazione rimasta è rimasto questo questo nodo ecco questo questa memoria pignoleria quello che arriva dalle delle esperienze passate del cartografo lo era già allora vedo che tracciava cancellava cioè era proprio come molto pignola molto pignola molto preciso gli serviva d'altronde a questa parte e se le portate indietro infatti vedo proprio che questi fili questi fili che ha di collegamento sono proprio tanti tanti modi non dico manie ma tanti modi che lui ci aveva e se ne ha portati provenienza delle sue intuizioni coscienza collettiva o entità proprio le arriva da un'esperienza è passata e quindi né dalla mente collettiva e né dalla identità proprio le arriva da un ricordo uno di quei fili che vedo collegati e lo vedo sempre in una condizione come scusate come di studioso di ricercatore e come non mi viene il termine ma colui che dà vita alle parole lo vedo allora l'epoca potrebbe essere proprio tipo 400 avanti cristo c'è proprio come proprio ha fatto l'esperienza di creatore di parole creatore di parole di esistenti ne crea uno nuovo sì sì ma era proprio come come in un villaggio vedo che proprio era lui che dava dava vita le parole lo vedo in un villaggio periodo in cui non dico ci fossero le prime parole però però mi ha fatto questa esperienza era come considerato molto considerato nel villaggio questo villaggio cioè non so pressa poco lui in quella vita di creava vicino al poco presso il poco pressa poco quasi sì 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 erano parole semplici sì 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 erano parole semplici c'è nel senso che dava vita alle prime a parole anche che erano legate alle cose di tutti i giorni per cui baratto si aratro cioè cose si sente la vita di tutti i giorni però era come un maestro lì in quel contesto lì della sua comunità ed erano studioso uno studioso era molto in vista quindi viene da una vita precedente né dalle coscienze collettiva la costruzione collettiva né dall'entità sì ok perché dimentica i sogni e le vite precedenti perché li dimentichiamo allora sono due allora intanto rispetto alle vite precedenti vedo che come se ci fosse la vedo come scelta della ps questa questa cosa perché non sempre non tutti dimenticano le vite precedenti è come se la ps avesse un collegamento tenesse aperto un collegamento ancora in effetti fino ai direi 45 anni un collegamento è come se venissero finissero di essere travasate alcune parti e dopodiché questo collegamento si chiude ecco si chiude se non viene coltivato nel senso che invece ci sono situazioni in cui rimane ancora come uno spiraglio aperto che facendo delle tecniche facendo meditazione facendo yoga cioè attraverso delle tecniche possono essere riprese da una da uno spiraglio si apre sempre di più ricordo finché poi si rifissano delle competenze però nel suo caso ad esempio lui la sua ps ha deciso di tenere dei collegamenti aperti quindi non ha dimenticato le sue vite cioè non ricorda magari la parte della pignoleria dove arriva esattamente però è come se mantenesse delle caratteristiche in comune o il discorso del mutismo e del fatto della timidezza cioè per cui è come se la sua ps avesse deciso di mantenere comunque un collegamento che se lui vuole in effetti attraverso la meditazione insomma potrebbe riagganciare e aprire di più ancora di più il discorso della cartografia discorso delle parole ciò può rientrare da quel filo può diventare per dire una parte molto più ampia dove passano ancora più informazioni volendo volesse ecco oppure può decidere semplicemente di continuare e andare avanti e sviluppare delle capacità nuove cioè invece di riaprire vecchie porte può decidere semplicemente di dire voglio essere realizzato voglio andare avanti da qui e sviluppare altre competenze che mi servono da qui in poi insomma va bene abbiamo visto un entità interiche mentali gli antiterici impianti mentali le abduction il nome del progetto ci sono cloni diciamo diciamo di no non cambia assolutamente noi abbiamo visto l'entità cattive abbiamo visto come ci cancellano la memoria abbiamo visto ma non lo trattiamo che ci sono i cantanti che fanno parte del sistema e che appaiono in un modo che cantano altre questioni ma ci interessa più di tanto la morale è qual è allora next level passiamo al livello successivo la morale cos'è è che noi siamo torturati da queste entità brutte e cattive che noi adesso con la sessione la togliamo quindi le cose cambiano no noi siamo qui a fare delle esperienze con le entità brutte e cattive l'identità brutte e cattive non solo abbiamo creati noi ma le abbiamo volute noi per capire determinate cose quindi adesso la signora ps di salvatore viene visto che l'abbiamo scoperta no nei suoi intenti invece di dire che è poverina io non riuscivo io non sapevo io non ricordavo lei che sa tutto e ha deciso tutto ci dice per esempio perché ha deciso di fare l'esperienza di essere così un animale da laboratorio analizzato da questa entità che poi alla fine gira che ti reggira raccolgono dei dati che non servono a nessuno quindi l'entità fanno questo lavoro pensando che sia necessario fondamentale o come fini ultimo e pensando di riuscire ad arrivare anche loro ad avere l'anima e quindi la vita eterna ma alla fine sono dei poveretti gli spersi che non sanno bene che cosa fare perché sono dei programmi e programmi li abbiamo voluti noi quindi non ci interessa molto dell'entità l'entità è una cosa che serve a noi per sapere delle cose e già si è ribaltato alla visione perché non siamo noi in balia delle entità sono l'entità in balia nostra cosa dobbiamo in una parola cosa dobbiamo imparare cosa deve imparare salvatore ps banco degli imputati una parola la risposta la libertà la libertà è quello che mi dice che che deve imparare e avere il coraggio di essere libero il coraggio di rischiare quindi di essere libero di rischiare perché è stato tanto imprigionato a è stato tanto bloccato quindi avere il coraggio di decidere decidere di avere il coraggio di essere libero e di che non ci siano più scuse di cose che lo trattengono per forza ma nel momento in cui decide lui può proprio come immagine che mi rimanda può liberarsi da queste catene che lo stanno chiudendo stringendo intorno e fosse proprio avvolto da queste catene grandi con delle con delle degli anelli molto grandi ma nel momento in cui lui decide di avere il coraggio di essere libero vedo che c'è che le maglie si allargano gli anelli si aprono e viene tutto giù quindi possiamo dire che la prima cosa che ci ha detto io sono uomo fatto e finito ma economicamente non ancora così stabile da sposarmi andare a vivere con la mia fidanzata che ho da vent'anni questo è un po il succo perché le sue vite precedenti sono di persona non libera schiava del lavoro schiava della pignoleria la carta del cartografo le abduction portavano lo portavano verso quella direzione no la comfort zone di casa se ti molestiamo qua figuriamoci come ti mostriamo fuori di casa in casa tua dove non c'è la mamma perdonatemi ma avete capito e hai capito anche tu non c'è qualcuno che ti protegge il nido che ti protegge scogliosi gli esperimenti tu sei nostro è interessante questa visione in realtà questa visione è tutto ben più importante di capire se pirope lui e dentro non è dentro il sistema è dentro il sistema proibito e è proibito appunto sapere come stanno le cose se vedete un po le cose con occhi diversi vi fate delle risate amare e quindi l'ha capito la ps sì la ps l'ha capito guarda messi vedo la ragazza che fa così con la mano che che attira l'attenzione e che fa sì con la te cioè che stava ascoltando chiaramente sta vedendo tutto ed era molto interessata da questa parte è molto contenta di quello che ho sentito anche lei sì però la ps l'ha capito che vuole fare vuole creare l'uomo energia vediamo se lo crea dice lui lui o lei lui se vuole creare l'uomo energia vi spiego cos'è un uomo energia un uomo fatto di adetà dell'energia dell'eterno abbiamo iniziato a fare anche noi il nostro transumanesimo ma energetico quindi siccome devono creare dei robot nella nostra vita noi creiamo dei automi energetici che fanno un po stupidotti un po tontolotti che fanno quello che noi diciamo no uomo energia e nasce solo per abbracciare l'entità con la loro energia è una faccione è un abbraccione un abbraccione l'abbiamo già mandato da audino che non era contento abbiamo già stato satana due volte con gli abbracci di uomo energia perché dovremmo dovremmo stare noi a fare sfere mandarle in giro lo facciamo ancora perché dobbiamo abbracciare noi l'entità con la nostra energia e scioglierle lo facciamo fare all'uomo energia la nostra personale contro entità stiamo facendo un po di esperimenti per esempio il ranocchio l'anfibio perché non si prende un bel abbraccio di uomo energia di mina seduto se lo vedi sì lo vedo guarda lo vedo tipo l'omino michelin no ma meno non ad anelli cioè non fatto così ma liscio però lo vedo bello con quello in forza sì 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 esatto esatto e lo vedo in effetti desideroso di fare quello che gli viene detto ecco molto così sì l'anfibio ho visto quando l'hai detto l'ho visto già che già solo l'idea o l'avvicinamento stava si stava sciogliendo come amacchia tipo qua che rimaneva un buco lì un buco la cio iniziava proprio a sciogliersi sciogliersi ok chi l'ha fatto questo uomo energia è nato da solo hai fatto tu l'ha fatto salvatore l'ha fatto la ps di salvatore ora quando l'hai nominato è comparso quando l'hai nominato io l'ho iniziato a vedere però credo mi viene da dire che nasce dalla dalla volontà c'è della decisione no perché nel momento in cui tu l'hai detto è come se gli intenti tutti insieme si fossero uniti e l'avessero creato al di là che l'abbia creato più uno più l'altro ma è come se il pensiero ma viene proprio da dire l'intento abbia sviluppato abbia fatto nascere questo uomo energia adesso lo mettiamo l'instand by questo ne facciamo creare uno solo al salvatore ok ok come l'ha fatto lo sta un po componendo con le mani c'è un po come fosse pongo in realtà è c'è nel senso che lo sta mettendo su a pezzi e le braccia le gambe però lo sta facendo anche se non è necessario che lo tocchi però lui la prima volta lo fa così sta facendo così c'è intero poi insegniamo io a fare un ad eternum e quelli che fa li mette dentro uomo energia così lo carica sempre di più si l'ha fatto l'ha fatto ne sta mettendo uno dove c'è la testa all'altezza della testa dell'uomo energia uno in centro e uno per ogni gamba ha fatto così uno sulle mani uno per mano si l'ha fatto vedo che brillante adesso premerò come vuoto adesso lo vedo brillante carico bene vuole usare sì sì come ma intanto ci sono tutte le entità eteriche che sono lì in fila ci sono lì presenti e quindi lo manda subito lì ma appena si è avvicinato perché l'uomo energia all'energia all'interno però come se vedo come se emanasse energia anche esterna per cui come se avvicinandosi l'energia iniziasse a a fare effetto e c'è come una favore una vaporizzazione proprio come se si sgretolassero va beh ha trovato un modo di creare qualcosa chiediamo che cosa vuole fare allora vuole creare l'eliminazione dei suoi contratti sì ma lui si sta togliendo anche gli impianti vedo che che sta di fianco all'uomo energia e si vuole togliere prima cosa questa calotta ca sulla testa può fare prima semplicemente togliendo tutti i contratti nel cluster ok il cluster e come il laboratorio del cartografo che non è quello ma è praticamente messo così con tante pergamene che sono messe dritte che sono messe dritte cioè sono una di fianco l'altro dritte non proprio perché in effetti le vedo anche qua un po inclinate un po come se fosse ci fosse un po di umidità e avesse fatto un po di creato umidità nelle mappe quindi sono un po anche loro inclinate ok ok e lo fa fare l'uomo energia di togliere tutto ok la sparita tutto non c'è più niente l'ha fatto fare l'uomo energia perché vuole energia lui è perché si manda a qualcuno ok può lasciare una d'eterno un qua sì l'ha fatto c'è 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 molto grande si ed andiamo all'avatar una differente tipologia di uomo di umanoide di entità siamo dei creatori di entità ormai hai visto uomo energia un'entità nostra legata a noi che fa quello che diciamo noi che ne abbiamo le scatole piene di noi stessi di fatto e delle nostre trappole siamo all'avatar come lo vedi lo sto vedendo come allora come una di nuovo una sagoma però questa volta invece di essere un foglio bianco è proprio come fosse una mappa proprio una mappa disegnata sulla schiena una mappa del mondo per dire no con delle nazioni del continenti così se lui ha praticamente invece ha dato fuoco a tutto cioè ha fatto così come una vampata non c'è più niente ha buttato via tutto ad eterno ma che qua se c'è ok con queste nuove condizioni ci sono ancora le interferenze che abbiamo visto prima e ti ricche mentali non c'è niente non c'è più niente 0 0 mettiamo allora una d'eterno nel corpo fisico se lo crea lui se lo mette lui ok sto prometto lo sto mettendo al centro delle gambe c'è tra le due caviglie ma vedo che così l'energia sta salendo su sta salendo su sale anche le le vie urinarie che lui ci tiene tanto sta salendo sull'energia si corpo mentale e nessuno sulla testa così corpo emozionale e messo uno per il coraggio diciamo nessuno in centro che va a creare proprio quest'onda di coraggio scopo eterico e messo l'ha messo in centro sopra che va di nuovo e radiare tutto e corpo subliminale si è fatta poi uno in casa uno dove lavora uno dove lavorare sta mettendo uno per ogni cartina che vede in effetti che alle cartine del mondo ok quelli nel cinema hanno imparato un po di cose che per esempio la fidanzata ha imparato in particolare la finanziata si i genitori i genitori erano interessati molto interessati sono rimasti nella stessa posizione dell'inizio quindi è un po la mamma un po raccolta è una posizione del corpo come di una persona un po in paura rete però per dire come un po inclinata così un po con le spalle di curve e che tiene sotto braccio il papà sono rimasti nella stessa posizione ma erano interessati se ok prima di vedere la nuova con vibrazione non i valori di salvatore apriamo il brutale aureo mandiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di salvatore nonché i tre disincarnati che interferivano con lui che ci siano ancora come interferenza ne dubito che siano anche soltanto sulla terra così alla ricerca dei nuovi vittime ok ci sono il portale aperto vedo che sono arrivati oltre che parenti anche delle persone del paese che vorrebbero anche loro passi poter passare nel portale tutti disincarnati anche del paese va bene dalla zona sì stanno passando stanno passando una cosa che erano detto che nel cinema c'erano anche delle persone del paese ma che stavano guardando e qualcuno vedendo e si è ricordato e ha deciso di avere coraggio sta prendendo esempio da quello che ha fatto lui da da lui ha deciso che anche lui vuole decide di avere coraggio il coraggio di essere libero queste persone queste persone nel cinema quelli che ci sono anche cinevaccati sì va bene chiudiamo il portale aureo quando sono passati tutti e dimmi fatto ok nuova frequenza vedo la sticella nel senso che prima non l'ho detta ma vedo che c'è un aumento allora adesso siamo a 145 miliardi e c'è stato un aumento come più o meno di 40 miliardi indicativamente vedo che si tira su così nuova consapevolezza 160 160 per cento psp ps vedo che c'è un 60 per cento e 40 vite precedenti e 1872 e percentuale di cervello diciamo anche prima e dopo vedo che prima era 3,2 3,2 3,3 più o meno adesso invece vedo 5,8 ok quasi doppio il messaggio finale della ps di salvatore in merito a tutto e anche alla capacità le tecniche le vie le strade per aumentare le capacità mediane che quindi la percentuale di cervello utilizzato allora la ps li dà questo messaggio mi dice di incominciare da subito e fa un inciso e subito non vuol dire appena ho tempo dice che subito vuol dire ora di incominciare da subito a mettere azioni di coraggio quindi a avere chiaro l'obiettivo che quello di essere libero 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 e di subito fare dei passi legati a togliere la paura insomma a mostrare coraggio quindi di coraggio e di fiducia verso se stesso dice anche di dunque ecco che come capacità intanto praticamente avendo già in sé queste capacità che aveva già anche imparato quindi la precisione anziché il capire l'origine delle parole dice che può proseguire il passo nel senso che ora che sa che arrivano da esperienze che comunque ha fatto può se vuole sempre di più entrare in queste capacità quindi avere la fiducia del fatto che non sono cose che sono legate alla fantasia o cose esterne ma che arrivano arrivano da lui dall'interno che sono sue esperienze e poi un'altra parte invece che mi ha mostrato è una parte legata alle piante e alla natura che lui non fa molto ma di cui lui ha molta necessità per cui può riattivare delle parti anche anche sentire le frequenze e mi mostra anche dei suoni stando proprio più a contatto con la natura con delle piante in particolare dice che ci sono dei posti che lui conosce dove ci sono delle piante io le vedo non sono piante molto grandi sono delle piante che posso descriverle ma hanno un tronco sul marroncino marrone un marrone grigio sono come due tronchi ma arbusti grandi diciamo così a cui che lui ha lì in zona e dice che quelle per lui vanno bene perché trasmettono lui può percepire la frequenza di quegli alberi lì meglio che come avessero una delle foglie in punta cioè come come un cappello insomma per cui hanno questi tronchi due o tre tronchi così uniti da un'unica parte e poi come questo queste parti diciamo di fogliame in punta sono fatte così ma non so dire che piante siano e quelle lì sono legate a lui perché lui può percepire questa frequenza che gli fa bene per andare a radicare di più in lui questa consapevolezza mi sta spiegando questo non so che piante siano e quale sia il posto però lui ci sa arrivare ci può arrivare diciamo che vabbè di queste specifiche piante riconnettersi con la natura e agire agire nella propria vita cambiare quello che è il suo blocco il blocco principale no il questione del nido sì sì volendo uno può anche sposarsi che ne so in comune senza cerimonia può vivere a un livello cioè può non darvi scontato che in tutta una serie di cose siano assolutamente fondamentali in una relazione di coppia no sì garage non è fondamentale se può tenere la macchina in strada giusto per fare un esempio quindi non mi sposo finché non ho possibilità di comprare una casa che ha due bagni cinque camere da letto e il garage si può anche modificare non in qualche modo anche perché sembra scusami c'è interrotto no tranquilla ma anche se comunque l'abbondanza è ovunque per tutti quindi mirare è basso non è il consiglio che mi sento di dare a nessuno dicevo la dicevo che anche se sembra che comunque i genitori o comunque la famiglia uno zio abbia un appartamento una casetta una cosa che è di cui lui può usufruire per eventualmente iniziare a almeno convivere vedo che c'è questa possibilità se lui indaga o comunque se lui nel momento in cui lui è interessato può andare a vivere già in un posto che è esistente ed è a disposizione o si mette a disposizione nel momento in cui lui decide non lo vedo già va bene abbiamo visto tutto come va va bene si sta bene lo vedo che si guarda intorno per vedere da che parte può iniziare ecco quindi è attivo disconnettiti da tutti e tutti